Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton! L'amore è come il formaggio. Quella mattina stavo lavorando tranquillo nel mio ufficio. Sì, il mio ufficio. Sapete dov'è vero? Cosa? Non lo sapete. Davvero? Beh, allora ve lo spiego io. Il mio ufficio si trova in via del Tortellino 13, a Topazia, la città dei topi. Io sono il direttore dell'Eco del Roditore, il quotidiano più diffuso dell'Isola dei Topi. Adesso avete capito chi sono, vero? Ma sì, io sono Stilton, Geronimo Stilton. Dunque, vi dicevo, stavo lavorando tranquillo quando la porta si spalancò. Ed entrò mia sorella Thea, l'inviato speciale dell'Eco del Roditore. Geronimo! Squitti. Lo sai che sei proprio pallido. Io borbottai. Naturale che sono pallido. È inverno. Lei si avvicinò e guardandomi fisso mormorò. Intendo dire che sei pallido... pallidissimo, ma di un pallido... malato. Ecco. Io sbuffai e indicai con la zampa una pila di scartoffi ammonticchiate sulla mia scrivania. Ti dispiace lasciarmi lavorare, Thea? Sono molto occupato. Guarda quanti manoscritti devo ancora leggere. Thea si avvicinò guardandomi fisso. Poi mormorò con aria tragica. Sono molto, molto preoccupata per te. Ci credo che non hai una fidanzata conciato così. Io ribattei. Ti ringrazio per l'interesse, ma io sto bene. Ma è stato meglio. E non ho nessun bisogno di una fidanzata. Lei improvvisamente mi strappò un baffo. Aia! Strillai. Ma cosa fai? Ci tengo ai baffi io. Lo porto subito al laboratorio del professor ricostituente per farlo esaminare. Comunque, secondo me, ti ci vorrebbe una vacanza. Magari una crociera nei mari del sud. E se ne andò. Notai che dalla sua borsetta sporgeva un depliant a colori di una nave da crociera. Mmm. Bizzarro. Appena se ne andò, tirai un sospiro di sollievo. Ricominciai a leggere un manoscritto quando la porta si spalancò di nuovo. Stavolta era mio cugino. Trappola. Geronimo! Squitti appena mi vide. Come sei conciato! Sei da sbatter via! Sembri uno zombie! Io ero allibito. Ma cosa dici? Io sto benissimo. Lui scosse la testa lisciandosi i baffi. No, no, no. Niente da fare. Al buon vecchio trappola non la dai a bere. Tu stai male. Molto male. Anzi, malissimo! Ma non vuoi confessarlo per via del coso, sì, del senso del dovere, insomma. E vuoi schiattare lì, su quella scrivania, leggendo i tuoi manocosi, sì, manoscritti, insomma. Ma ti sei guardato allo specchio, eh? Ci credo che non hai una fidanzata. Conciato così. Io sbuffai. Anche tu. Cosa c'entra la fidanzata? Volete lasciarmi in pace? Io sto bene. Ho solo bisogno di essere lasciato tranquillo. Lui scosse la testa e mi girò attorno, con passo felpato, come se avessi manifestato qualche sintomo strano. Poi mormorò. Ho qui per caso, per caso, te lo garantisco, parola di eroditore, un dizionario medico dei sintopi. Sintomi, non sintopi. Lo corressi. Sì, sintopi. Sintomi, quella roba lì, insomma. Tirò fuori un librone che cominciò a sfogliare. Notai che nel libro era infilato un dépliant di una nave da crociera. Bizzarro. Vediamo, vediamo, vediamo. Pallore cadaverico. Sguardo schizzato. Baffo moscio. Pelliccia spelacchiata. Così dicendo, allungò una zampa e mi strappò un ciuffetto di pelliccia da un orecchio. Visto? Guarda come perdi la pelliccia. Rimarai calvo tra un po'. Aia! Strillai. Lui riattaccò. Tutta una questione di stress, secondo me. Forse ti senti solo? Ti ci vorrebbe una fidanzata, te lo dico io. Io protestai. Ma cosa avete tutti oggi? Lui scosse la testa, mestamente. Noi non abbiamo niente, Geronimo. Sei tu che hai qualcosa, Geronimo. Una malattia magari grave, magari gravissima. Geronimo. Magari contagiosa. Così dicendo, fece un passo indietro e si portò un fazzoletto davanti al muso. Scusa, non offenderti, ma è per i baccelli. Per i bacilli, casomai. Lui fece un gesto di non curanza. Sì, i baccelli, i bacilli, cosa vuoi che cambi? Scusa, sai, ma secondo me potresti avere qualcosa al pancarre o al tostino. Vorrei dire al pancreas, all'intestino. Lui mi guardò da vicino con aria critica. Secondo me sei giallo. Ho saputo di una malattia al fegato che ti fa diventare tutto giallo. Isterico! Io protestai. Vorrei dire iterico. Ma sì, ma sì, tu fai sempre il precisino. Ma la sostanza è la stessa. Scusa se te lo chiedo, ma hai già fatto testamento? Credo che sarebbe meglio per tutti qui all'eco del ruditore sapere che qualcuno, io, magari, manderà avanti la cosa. Sì, insomma, la baracca. Se a te succedesse qualcosa di brutto. Lo sai che sei proprio un menagramo? Lui ridacchiò sotto i baffi. Comunque, secondo me ti ci vorrebbe una vacanza, magari una crociera nei mari del sud. E comunque anche una fidanzata. In quel momento squillò il telefono e io risposi. Pronto? Sono Stilton, Geronimo Stilton. Buongiorno, io sono il professor ricostituente. Sua sorella Thea mi ha portato uno dei suoi baffi da esaminare. Dice che lei ha urgente bisogno di cure. Consiglierei, d'accordo con sua sorella, una vacanza immediata. Magari una crociera nei mari del sud. Io urlai esasperato. Ma che vacanza è vacanza? Devo lavorare! Udi, mia sorella che squittiva sottovoce. Visto com'è nervoso, gliel'avevo detto, professore. Trappola mi strappò la cornetta di mano. Gliel'ho detto anch'io che è grave, ma lui, Geronimo, non mi vuole credere. Poi coprì la cornetta con la zampa e iniziò a mormorare. Sempre stato un po' schizzato, ma mai fino a questo punto. Nervoso fin di primo mattino. Occhio a palla, sguardo allucinato, dimagrito, baffo moscia. Pallido come una mozzarella, pellice spelacchiata. Bisogna curarlo a tutti i costi, anche se lui non vuole, caso disperato, grave, gravissimo, una male ospedale o una crociera nei mari del sud. Magari la trova anche una fidanzata. Io aguzzai le orecchie. Perché tutti continuavano a parlare di una crociera nei mari del sud? E cosa c'entrava la fidanzata? Trappola mise il viva voce. E udì il professore squittire in tono professionale. Guardi che lei è su una brutta strada. Da quanto mi hanno detto la sua potrebbe essere una malattia grave. Che so, magari un esaurimento nervoso da stress. Forse ha problemi sentimentali con la fidanzata. Comunque le prescrivo una bella cura di iniezioni, poi... Io gridai a pieni polmoni nel telefono. Ma quale esaurimento! Ma quale fidanzata! Ma quali iniezioni! Io sto bene! Anzi, benissimo! Ma è stato meglio! Voglio solo essere lasciato in pace da tutti quanti! Non ne posso più! Udì il professore e mia sorella parlottare nel telefono. Poverino, lui crede di stare bene. È un caso grave, gravissimo. Il professore insistette. Io le consiglierei una vacanza. Magari su una nave da crociera. Io riflettei. Mmm, bizzarro. Entrò la mia caporedatrice, Certosina Kashmir. Mi guardò con aria preoccupata e mormorò. Dottor Stilton, sua sorella mi ha detto tutto. Mi dispiace tanto. Ma non si preoccupi. Oggi la medicina fa miracoli. Certo che una vacanza le farebbe bene. Magari su una nave da crociera. Io ormai esasperato gridai. Ancora la nave da crociera? Basta! Io sto bene! Benissimo! Come devo dirlo? Notai che dall'agenda di Certosina Kashmir spuntava il depliant a colore di una nave da crociera. Mmm, bizzarro. Trappola scosse la testa. Visto? Ormai siamo a questo punto. Non si controlla più. Ma non si preoccupi, Certosina. Geronimo non è contagioso. Forse. La porta si spalancò e rientrò mia sorella Thea, seguita da un'infermiera. Lei squitti decisa. Sono ipodermica stantuff. Detta pic. Devo fare un'iniezione ricostituente a un certo Geronimo Stilton. Poi soghignò. Chi è la vittima? Lui! Strillarono in coro Thea e Trappola indicandomi. Io impallidì. Odio fare le iniezioni. Se ancora non l'avete capito, sono proprio un fifone. Tentai di protestare. Cosa, cosa, cosa? Io sto benissimo. Lei squitti sbrigativa. Su, su, su! Dicono tutti così, ma poi... Dai, che le fa bene! Si sentirà un altro! Io strillai. Mi rifiuto! Lei impugnò una siringona. Spruzzò in aria una goccia di liquido e strillò con i baffi che fremevano. Sono pronta! Non vorrà che sprechi l'iniezione, eh? Dai, tiri giù le braghe che non le faccio la bua, fifone! Non si vergogna grande com'è a fare tutto questo cancan per una punturina? Dai, fifone, che poi vai in crociera nei mari del sud! Io mi morsi la coda dalla rabbia. Non ho bisogno di curarmi, lo volete capire? E poi che c'entra la crociera? Entrò un tipo, cioè un topo, dall'aria solenne, con occhialini dalla montatura dorata. Indossava un abito scuro e un cappello a cilindro. Si lisciò i baffi con aria di importanza e mormorò. Squitto, sono il notaio contratto-contrattopo per un testamento. Io strillai. Non voglio fare nessun testamento! Sto bene! Benissimo! Lui tentò di calmarmi. Non si agiti! Tutto sommato può godersi la vita ancora per un po'. Finché non muori, intendo dire. So tutto di quella bella crociera nei mari del sud. Io gridai. Squiiiit! Qualcuno vuole spiegarmi perché tutti continuano a parlare di una crociera nei mari del sud! Thea e trappola, tacquero, lanciandomi uno sguardo di intesa. Mmm, bizzarro. Io strillai con i baffi che vibravano per l'esasperazione. Ora basta! Devo ritornare a lavorare! La redazione mi aspetta! La porta si spalancò di nuovo ed entrò il mio nipotino preferito, Benjamin. Zio Geronimo, è vero che stai male? Molto male! E che per guarire devi assolutamente partire per una crociera nei mari del sud? Continuò preoccupato. Zio Geronimo, se parti, portami con te, ti prego! Io lo tranquillizzai, accarezzandogli le orecchiette con tenerezza. Non preoccuparti, bocconcino di grana. Va tutto bene. Non temere. Ovunque io vada, tu sarai con me. Topella, la mia assistente, squitti. Dottor Stilton, ecco i biglietti per la crociera. Ce ne sono quattro, uno per lei e gli altri per la sua famiglia. Sono stati addebitati sul suo conto. Suo cugino trappola ha detto che lei era d'accordo. L'agenzia ha raccomandato di sbrigarsi. La nave parte tra due ore. Beato lei, dottore, che meraviglia, i mari del sud! Io rimasi con un palmo di muso, biglietti, crociera, nave, mari del sud, addebitati sul mio conto per mille mozzarella. Ora capisco, è tutta una congiura, un complotto della mia famiglia per scroccarmi una vacanza. Thea fece finta di niente. Trappola soggignò sotto i baffi. Benjamin mormorò ansioso. Ti prego, zio, partiamo, così guarirai. Sono molto preoccupato per te. Io volevo ripetere che stavo bene, anzi, benissimo, che non avevo nessun bisogno di curarmi, ma abbracciai Benjamin e sospirai sorridendo. E va bene, piccolo mio. Se ci tieni tanto, partirò, anzi, partiremo. Due ore dopo, eravamo già a bordo. Partenza! La nave da crociera Regina Ratta si staccò dalla banchina tra gli urrà della folla. Quanti roditori salutavano i passeggeri in partenza. Io ero sul ponte con la mia famiglia. Trappola si sbracciava salutando gli amici. Ciao, Truffaldo! Hola, pappetta! Eila, pappataccio! Eila, zampamozza! Thea scattava fotografie a tutto spiano. Benjamin volle che lo prendesse in braccio, perché non arrivava al parapetto. Mestre in sé forte, mormorando. Zio, come sono emozionato! Sarà una vacanza fantastica, stratopica, soprattutto perché ci sei tu, zietto. Quella sera, ci sedemmo tutti a tavola nel grande salone di gala. Lessi il menù. Soufflé di formaggio, pasticcio di mozzarella in crosta, gorgonzola in carrozza, meringata al taleggio. Delizioso! Mi lecca i baffi! Che cenetta! Ma mi aspettava una delusione. A me portarono un vassoio con minestra di rapa cotta, mezzo uovo sodo senza sale e una foglia, lessa, di lattuga biologica, più una prugna cotta. Ma, ma, perché non posso mangiare come gli altri? Protestai deluso. Il cameriere scosse la testa con un sorrisetto sadico. Lei è nella lista. Salute a tutti i costi! Tremendo! Quindi dieta! E non cerchi di sgarrare, sa? Perché qui sulla nave la terremo tutti d'occhio per il suo bene. Protestai con Thea, ma lei fu irremovibile. Il professor ricostituente ha detto che devi assolutamente fare una dieta disintossicante. Vedrai come ti farà bene. Ti sentirai un altro. Tentai di ribellarmi, ma fu tutto inutile. Allora mi venne un'idea. Quatto come un ratto, sgattai olai via e mi infilai nel negozio di souvenir della nave che vendeva anche cioccolatini, dolcini vari e snack di tutti i tipi. Il ratto dietro il banco mi squadrò dalle orecchie alla coda con aria sospettosa. Se ho capito bene, lei vorrebbe acquistare formaggini in scatola, biscottini al provolone, dolcetti al taleggio, caramelle al gorgonzola, cioccolatini ripieni alla crema di fonduta, mozzarelline candite. Già, già, mi affrettai a confermare io leccandomi i baffi. Lui consultò una lista che teneva sotto il banco. Mmm, scuitto. Lei si chiama Stilton, vero? Geronimo Stilton. Qui risulta che lei è iscritto nella lista salute a tutti i costi. Quindi, niente formaggini, biscottini, dolcetti, caramelle, cioccolatini, mozzarelline. Lei deve stare a dieta, sa? È per il suo bene. Ma non si preoccupi, se cade in tentazione, la aiuteremo noi della nave a stare a dieta. La terremo tutti d'occhio. Me ne andai con i baffi che frullavano dalla rabbia. La mattina dopo, alle sei, qualcuno bussò alla porta. Signor Stilton, sono il suo allenatore, cronometrata sprint. Lei è iscritto al programma Salute a tutti i costi, vero? Allora adesso deve partecipare al jogging sul ponte della nave. Tentai di protestare, ancora sonnato, ma l'allenatore squitti. Dopo il jogging, l'aspetta una bella sauna selvaggia, rovente, sui 350 gradi circa. Poi farà 800 vasche nella piscina olimpionica, verrò a contarle io personalmente. Poi si allenerà non stop per tre ore facendo sollevamento pesi. Partiremo da 10 chili per arrivare a 50, magari anche 60, che dico, anche 70, 80, 90, 100 magari, se non schiata prima. Quindi uno snack. Mezza fetta biscottata con una sana spremuta di limone. E infine a metogiorno lei sarà libero di partecipare all'altro programma a cui è iscritto. È pronto Stilton? Pronti? Via! Schattare Stilton! Schattare! Io chiesi perplesso. Scusi, non capisco. Quale altro programma? Oh! Vedrà, vedrà! Disse lui strizzandomi l'occhio. Avrei voluto chiedere altri dettagli, ma lui non me ne lasciò il tempo. Alle 12 ero affamato. Anzi, più che affamato. Non ci vedevo più dalla fame. Così sgranocchiai la mezza fetta biscottata e bevi la spremuta di limone. Stavo cercando un asdraio per stendermi tranquillo al sole quando... quando qualcuno mi strellò nelle orecchie. Io mi voltai sobbalzando. La signorina che aveva parlato indossava un cappello di paglia rosa a tesa larga, occhiali rosa tempestati di strass, un romantico abito di pizzo rosa e una quantità impressionante di costosi gioielli. Reggeva un cestino da pastorella colmo di fiori. Mi ficcò sotto il muso un mazzetto di violette e io subito starnutì. Sono allergico alle violette. Oh, ma lei deve essere Stilton. Geronimo Stilton, il famoso topo editore. Squitti vezzosa. Io risposi cautamente. Eh, ecco, sì, in effetti io sono Stilton. Geronimo Stilton. Lei mi agitò di nuovo le violette sotto il muso e strellò. Anche lei è iscritto al programma Anima Gemella? Che emozione, vero? Poi squitti maliziosa. Sono ratarella dolce ratto. Mi farebbe da cavaliere. Io non osai dirle di no. Sono un topo beneducato. Lei mi trascinò sul ponte dove ebbe inizio il programma Anima Gemella. Ma chi mi aveva iscritto? Chi, dico? Arrivò l'organizzatore del programma. Amoroso, amoruso. Con aria solenne, lui mi pinzò al bavero della giacca un cuoricino dorato con sopra scritto Anch'io partecipo al programma Anima Gemella. Oh, come mi vergognavo. Appena amoroso si girò io mi strappai il cuoricino dal bavero e lo nascuse in tasca. Poi iniziò il programma. Ora prenderete lezioni di waltzer naturalmente in abito da sera. Annunciò l'istruttore Brillantino Brill. Un tipo tremendo con baffi arricciati gardenia di plastica all'occhiello parrucchino imbrillantinato si era profumato con un tremendo dopo barba al gorgonzola. Si accorse che mi mancava il cuoricino e me ne pinzò un altro alla giacca. Poi diede inizio alla lezione. Fu così che dovetti danzare il waltzer nell'ora più calda tra l'una e le due indossando il frac. Con chi? Ma con Rattarella dolce ratto. La tipa delle violette, naturalmente. Lei si era già cambiata d'abito. Mentre danzavamo tanto per conversare le chiesi di che cosa si occupava e lei inorridì. Ma no, ma no, signor Stilton. Io non lavoro. Una signorina per bene si dedica solamente a occupazioni adatte al suo temperamento romantico. Ho l'animo delicato io. Trascorro le giornate dipingendo quadri, scrivendo poesie, coltivando rose e violette, ricamando a piccolo punto. Amoroso, amoroso, si accorse che mi ero tolto di nuovo il cuoricino e me ne pinzò un altro alla giacca. L'ha perso ancora, distratone. Guardi che gliel'ho pinza all'orecchio, sa? Mi ammonì scherzoso. In quel momento passò l'ultimo roditore che avrei voluto incontrare. Mio cugino Trappola. Lui sghignazzò. Bravo, cuginotto. Vedo che ti sta impegnando, balla, balla, che ti fa bene. Così finalmente quando torneremo a Topazia troverai la tua anima gemella. Anzi, magari l'hai già trovata qui sulla nave. E mi strezzò l'occhio con aria furbetta accennando a Rattarella. Mi sussurrò in un orecchio. Ma lo sai chi è quella lì? È Rattarella Dolceratto, la figlia del re dei cioccolatini fondente al formaggio. Un'ereditiera così ricca che più ricca non si può. Visto che gioielli. Dai, Geronimo, non te la lascerai sfuggire, eh? Si vede lontano un miglio che lei è un debole per te. Sono sicuro. Mi ci gioco la pelliccia. Io risposi a denti stretti. Non me ne importa un baffo di quanto è ricco suo padre. La fidanzata? Voglio scegliermela io. Lui ridacchiò. Valà, non farei difficile. Poi, mio cugino si inchinò galantemente davanti a Rattarella. Permette questo ballo, signorina? Lei accettò, vezzosa. Mentre piroettavano sul ponte, lo udì mormorare. Non se lo lasci scappare, Geronimo è uno scapolo d'oro, proprio un roditore per bene. Pensa solo al lavoro, però è un po' timido, deve incoraggiarlo, insistere, lo faccia ballare, che gli fa bene. Mi frullavano i baffi dalla rabbia. Ma perché mio cugino non si faceva i fatti suoi? Rattarella ritornò sfarfalleggiando verso di me. E' come di ritorno, signor Geronimo. Non sia geloso. Guardi che suo cugino non è il mio tipo. Io preferisco i roditori intellettuali come lei. Comunque è stato carino da parte del signor Trappola iscriverla al programma Anima Gemella. Io mi morsi la coda dalla rabbia. Ah, era stato lui a iscrivermi. Avrei dovuto capirlo subito. Il pomeriggio passò con una lentezza esasperante. Prima partecipai a un corso accelerato di buone maniere. Poi alla lezione Ditelo quei fiori, il linguaggio segreto degli omaggi floreali. Poi, come baciare la zampa con classe impeccabile. Quindi, come scrivere una lettera d'amore veramente romantica. Poi, come fare una serenata sotto il balcone della vostra bella. Alla fine, fui costretto persino a una lezione di tango. L'istruttore era un tipo odioso, un certo tangherito fascinoso detto il caliente, un ratto con lo sguardo da bel tenebroso che faceva il furbetto con tutte le signorine iscritte al corso. Portava dei baffetti arricciati, aveva la pelliccia lucida di gel e sbatteva i tacchi strellando olè con una rosa in bocca. L'orchestra suonava continuamente questa canzone. Se non puoi avere vicino il roditore che ami, ama il roditore che hai vicino. Olè! Ritornai in cabina esausto alle sette di sera. Non ne potevo più. Sarei fuggito, ma a bordo di una nave non è possibile. Il giorno dopo, finsi di essere malato e rimasi chiuso in camera, ma presto qualcuno bussò alla porta. Un brivido mi fece accamponare la pelliccia. Che fosse... fosse... Sì! Era proprio lei! Rattarella! E si era cambiata di nuovo d'abito! Yuhuu! Signor Geronimo! Ho sentito che non sta bene! Le ho portato un bel libro di poesie! Leggerò per lei! Io tentai di rifiutare gentilmente. Eh, grazie, ma veramente... Lei mi posò una mano sulla fronte. Oh! Non ha la febbre, sa? Io me ne intendo di malati. Ho fatto un corso da croce rossina. Su! Ora le darò uno sciroppino che fa bene per qualsiasi malanno. Rapida! Tiro fuori dalla borsetta una bottiglia di vetro e un cucchiaio. Ecco qua! Prima che potesse rifiutare avevo davanti al muso il cucchiaio colmo di un liquido nauseabondo che puzzava di olio di ricino. Ma sembra olio di ricino! Infatti è olio di ricino aromatizzato al gorgonzola! Trillò lei soddisfatta. Vedrò come ne farà bene una bella purghetta. Su! Apro la bocca! Io aprì la bocca per dire che non volevo berlo ma lei ne approfittò per ficcarmi il cucchiaio in bocca. Poi per fortuna riuscì a convincerla a lasciarmi solo. Passò un'oretta e cominciai a sentire uno strano gorgoglio. Mi sembrava di avere un vulcano nella pancia. Ahimè! L'olio di ricino cominciava a fare effetto. Adesso sì che stavo male. Proprio male! Sono un topo educato e non vi dico dove passai le ore successive ma purtroppo ve lo potete immaginare. Poi alle sette in punto Rattarella bussò alla porta. signor Geronimo sono Rattarella come sta? Le ha fatto effetto la mia medicina? Come si ha fatto effetto? Borbottaia a denti stretti. Questa sera non vengo al ristorante mi farà portare la cena in camera. Lei se ne andò. Già pregustavo la cenetta in camera tranquillo per condomiglio facendo zapping in tv leggendo uno dei miei libri preferiti ma alle otto Udei Rattarella bussare alla porta. Mangiare qui da solo guardando tristemente la tv in compagnia dei suoi libri. Poverino chissà come si sentirebbe solo. Ma non si preoccupi le ho portato un bel vassoio così stasera ce n'eremo insieme e mi racconterà tutto ma proprio tutto di lei così ci conosceremo meglio. Contento? No cioè sì cioè no grazie ma non ci disturbi cercai freneticamente una via d'uscita poi dissi disperato mi sento improvvisamente meglio credo proprio che verrò a cena nel salone lei trillò felice si sente meglio ma che bella notizia forse è la mia presenza ad avere questo effetto benefico su di lei mormorò maliziosa proseguì sapesse quanti pettegolezzi su di noi signor geronimo gli altri passeggeri cominciano a chiacchierare sa dicono che siamo proprio una bella coppia io ero preoccupatissimo cosa 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 pettegolezzi chiacchiere coppia e io veramente lei squittì allora l'aspetto nel salone al nostro tavolo vado a rassicurare sua sorella tea mi ha tanto raccomandato di occuparmi di lei signor geronimo dice che nella sua vita manca un tocco femminile mogio mogio non avevo alcuna voglia di cenare con rattarella mi trascinai fino al salone lei era già là ad aspettarmi in abito da sera mi salutò vezzosamente con la zampa vedendomi arrivare io ho signor geronimo sono qui la sto aspettando notai che tutti ci guardavano sorridendo e colsi qua e là dei pettegolezzi hai visto quei due oh ma com'è romantico come sono carini tanto innamorati lui è così intellettuale dirige l'eco del roditore lei è così ricca suo padre è quello dei cioccolatini dolcerato si sono conosciuti un programma anima gemella pare che si vogliono sposare qui sulla nave potrebbe sposarli il comandante io rizzai le orecchie sposarsi sulla nave mi girai verso il comandante lui mi strizzò l'occhio con aria complice poi mi si avvicinò e sussurrò con aria solenne arricciandosi i baffi ne ho già sposati tanti è molto romantico le garantisco io diventai rosso come un pomodoro e balbettai sposarsi e grazie cioè no 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 per carità assolutamente e grazie comunque non ci penso nemmeno grazie per il pensiero ma neanche morto il comandante chiese silenzio e annunciò e ora suggerisco che a dare inizio alle danze sia la coppia più bella più romantica della nave il signor Geronimo Stilton noto editore e la signorina Rattarella Dolceratto ereditiera straricca propongo un applauso tutti applaudirono vedi che Benjamin si asciugava una lacrima commosso e volevo dirgli non commuoverti ti giuro che non ce n'è motivo Thea annuiva soddisfatta come per dire finalmente mio fratello si sistema trappola invece sghignazzava sotto i baffi perché lui aveva capito benissimo che io non ne volevo sapere di Rattarella Rattarella si asciugò una lacrima con un fazzolettino ricamato che profumava di una raffinatissima essenza di camembert brillantino brill mi soffiò in un orecchio chietta alla signorina Rattarella di danzare Stilton Zuh non faci il timido con tutte le lezioni di waltzer che ha preso per non parlare di tango io a malincuore mormorai va bene mi inchinai davanti a Rattarella e squitti mi concede questo ballo signorina oh sì con piacere signor Geronimo i musicisti iniziarono a suonare una musica romantica il waltzer delle mozzarella e noi volteggiammo sulla pista da ballo mentre tutti i roditori applaudivano lei intanto mi sussurrava all'orecchio le piacciono le famiglie numerose signor Geronimo a me sì le adoro sarei una madre perfetta sa e anche una moglie perfetta me lo dicono tutti io ero paonazzo e non sapevo più che fare tornai al tavolo scocciatissimo benjamin mi strizzò l'occhio e mi passò sotto il tavolo un pacchetto di patatine aromatizzate al formaggio tieni zio Geronimo sono per te ma non farti scoprire io a mia volta gli strizzai l'occhio e infilai il pacchetto di patatine sotto il panciotto del frac ah benjamin è proprio il mio nipotino preferito lui sì che mi vuole bene quando Rattarella si sedette vicino a me mi schiarii la voce volevo dirle che non ne potevo più di quella storia e che volevo essere lasciato in pace ecco proprio in quel momento arrivò mia sorella Thea che strellò eccitata allora fratellino ti sei deciso non vedo l'ora che ti sposi pensa che bel servizio fotografico potrei fare le vendite dell'eco del roditore salirebbero alle stelle immagino già i titoli Geronimo Stilton sposa la figlia del re del cioccolato strepitosa festa al castello dei dolce ratto servizio esclusivo di Thea Stilton dimmi appena decidi così mi faccio un vestito nuovo pensavo a un abitino di sciffono rosa fucsia lungo fino ai piedi con inserti di pelliccia sintetica di gatto va proprio di moda adesso Benjamin mi tirò per la giacca emozionato zio posso farti da paggetto io ero disperato non sapevo più che fare in quel momento Rattarella propose signor Geronimo mi accompagnerebbe a fare una romantica passeggiata al chiaro di luna io strellai esasperato neanche per sogno tutti si girarono a guardarci udì i pettegolezzi il loro primo litigio peccato una così bella coppia eh l'amore pare che lui già prima di partire fosse malato molto malato l'hanno salvato i suoi parenti costringendolo a partire un esaurimento nervoso tremendo eh sì questi topi intellettuali sono tutti fragili di nervi io rosso di imbarazzo tentai di sorridere offrì il braccio a Rattarella e uscimmo insieme sul ponte della nave mentre tutti ci osservavano divorati dalla curiosità udì i commenti dei passeggeri hanno già fatto la pace pare che lui abbia spesso questi scatti di nervi certo che lei ha proprio una gran pazienza quando fui sulla soglia inciampai e caddi a terra cadendo il pacchetto di patatine mi scivolò fuori dal panciotto lo raccolsi precipitosamente mentre facevo ciò dal pacchetto scivolò fuori la sorpresa era un anello di metallo dorato con una enorme pietra rossa finta lo raccolsi e feci per metterlo in tasca ma per un attimo la luce della luna lo illuminò e Rattarella lo vide con aria deliziata me lo strappò di mano strellando oh Geronimo 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 un anello allora siamo ufficialmente fidanzati proprio in quel momento passava di lì sfortuna felina il fotografo della nave che ci scattò una foto a sorpresa eccola il fotografo Squitty congratulazioni per il fidanzamento io mi resi conto in un attimo del malinteso orrendo ecco io non intendevo non volevo assolutamente ecco veramente l'anello cioè le patatine insomma io sono inciampato ma Rattarella era già corsa nel salone per fare vedere l'anello alle amiche o di i pettegolezzi dei passeggeri caspita che rubino enorme sembra perfino finto da tanto e grosso Stilton ci teneva a fare colpo pare che suonano gli abbia raccomandato di non fare brutta figura l'amore ero proprio in trappola come un sorcio in bocca al gatto forse anche peggio uscì a prendere un po' d'aria per raccogliere le idee mi avviai sul ponte e mi accorsi che il mare ora era tempestoso il vento soffiava impetuoso e alte onde increspavano il mare alla luce della luna capì che da solo non ce l'avrei mai fatta avevo bisogno d'aiuto avevo bisogno di un buon consiglio presi il telefonino e composi il numero di zia lippa conoscete zia lippa è una zia eccezionale con il cuore in gola lasciai che il telefono squillasse una due tre volte era piuttosto tardi finalmente udì la voce di zia lippa squid pronto pronto chi parla zia lippa zia lippa sono io geronimo lei sbadigliò assonnata geronimo nipote carissimo come stai va tutto bene si zia lippa cioè no in un certo senso ecco io veramente lei capì subito che qualcosa non andava geronimo nonno torquato mi ha detto che forse ti sposi io non resistetti e mormorai zia è proprio per questo che ti ho telefonato ho bisogno di un consiglio zia lippa era preoccupata nipote nipote carissimo dimmi tutto vorrei tanto poterti aiutare ti voglio bene lo sai al sentire quelle parole gentili improvvisamente mi venne da piangere singhiozzai zia tutti vorrebbero che mi sposassi ma io credo di non amarla lei sospirò eh geronimo l'amore è così importante è la sola cosa che dia un senso alla vita l'amore è un fiore prezioso ma anche raro molto raro io sono stata fortunata perché vent'anni fa ho incontrato tuo zio spelliccio che dopo che amo ancora oggi come il primo giorno caro geronimo l'amore è come il formaggio se è di qualità col tempo migliora io sospirai ma come faccio a capire se la amo o no zia lippa lei mormorò vedrai geronimo quando ti innamorerai davvero ti batterà forte il cuore e sentirai suonare le campane te ne accorgerai e come se te ne accorgerai io non capivo le campane che c'entrano le campane la linea era molto disturbata ma udizia lipa ripetere nipote quando incontrerai l'amore lo riconoscerai subito solo provandolo capirai io strillai zia ma io sono nei guai udì la sua voce sempre più lontana l'amore è come il formaggio la linea cadde definitivamente e io spensi il telefonino mi affacciai al parapetto e fissai le onde ora finalmente avevo deciso mi voltai per tornare nel salone per andare a parlare con Rattarella quando improvvisamente la nave si inclinò e un'onda spazzò il ponte tentai di aggrapparvi al parapetto ma scivolai sul legno bagnato e precipitai fuori bordo mi ritrovai nell'acqua gelida e affondai trascinato a fondo dai vestiti inzuppati d'acqua poi ritornai a galla vedi terrorizzato che la nave si allontanava senza di me scintillante di luci nella notte buia aiuto aiuto squitto dopo il mare strillai ma nessuno mi udì per un attimo un attimo tremendo pensai di non avere scampo poi decisi di lottare e iniziai a nuotare nuotai per un tempo che mi parva interminabile nell'acqua gelida come il ghiaccio le onde erano sempre più alte e facevo fatica a tenere il muso fuori dall'acqua per farmi forza continuavo a ripetermi mai arrendersi mai arrendersi mai arrendersi nuotai con tutte le mie forze alla fine mi parve di intravedere nel buio un'isola nuotai ancora con le ultime forze finché esausto giunsi su una spiaggia era quasi l'alba trascinai le zampe stanche sulla sabbia poi mi abbandonai sulla spiaggia e mi addormentai quando rinvenni il sole era ormai alto mi guardai attorno mi trovavo su una piccola isola dalla sabbia candida fitta di palme e banani sedetti all'ombra sbucciai una banana e mentre facevo colazione ragionai a quest'ora sulla nave si accorgeranno che non ci sono mi cercheranno e non trovandomi mi daranno per disperso chissà cosa avrebbero detto i miei parenti per un attimo mi vennero le lacrime agli occhi pensando a benjamin chissà come gli dispiacerà poi decisi di farmi coraggio mai arrendersi mi ripetei mi guardai attorno l'isola era fitta di banani la battezzai isola delle banane decisi di darmi da fare primo raccolsi delle foglie di banano e le intrecciai per formare il tetto di una capanna secondo all'interno costruì una specie di letto con foglie e rami secchi terzo al posto del tavolo trascinai dentro un grosso sasso di granito grigio e un altro sasso come sedia per riprendere le forze mi sdraiai a fare un sonnellino sul mio nuovo letto e mi mangiai una banana quarto raccolsi dei rami e li ammucchiai tutti davanti alla capanna quinto mi tolsi gli occhiali e con una lente concentrai i raggi solari su una foglia secca sesto ci volle molta molta pazienza ma finalmente dalla foglia cominciò a salire un sottile filo di fumo e la foglia prese fuoco accesi il fuoco aggiungendo i rami a uno a uno dai rami più piccoli passai a quelli più grossi finché il fuoco diventò vivace poi mi diressi verso gli scogli settimo andai a cercare molluschi sugli scogli in riva al mare raccolsi granchi cozze e patelle ostriche e chioccioline di mare ottavo li posi su una pietra vicino al fuoco nono quando furono cotti me li mangiai gnam gnam che buoni andai a dormire sul mio letto di foglie di banano dalla piccola finestra della capanna osservai il cielo senza nuvole e il mare che brillava alla luce della luna chissà quando mi avrebbero salvato e se mi avrebbero salvato per un attimo mi senti il cuore colmo di disperazione poi mi ripetei ad alta voce per farmi coraggio mai arrendersi mai arrendersi mai arrendersi finalmente una mattina circa tre mesi dopo vidi un filo di fumo all'orizzonte aiuto sono qui strellai agitando le zampe poi corsi verso il fuoco che tenevo sempre acceso e ci buttai dentro una bracciata di rami verdi inviai un SOS con l'alfabeto morse facendo segnali di fumo tre fumate brevi tre lunghe tre brevi a poco a poco il puntino all'orizzonte divenne sempre più visibile quando si avvicinò capì che era una nave una nave enorme persino più grande della regina ratta temevo che passasse senza notarmi ma finalmente vedi che stava virando per dirigersi verso la mia isola sì sono selvo squiti dalla nave calarono una scialuppa che si avvicinò lentamente all'isola aiuto squiti sono qua sono un topo naufrago gridavo con la voce rocca per l'emozione mi gettai in acqua per raggiungere la scialuppa a nuoto grazie grazie per avermi salvato mormorai con le lacrime agli occhi per l'emozione finalmente arrivamo alla nave capì che era un cargo cioè una nave da trasporto il capitano un ratto tarchiato dalla barba incolta mi attendeva sul ponte lei è un roditore molto fortunato mormorò stringendomi energicamente la zampa io squiti grazie grazie per avermi salvato capitano il mio nome è Stilton Geronimo Stilton dodici ore dopo ero già a Topazia stanco ma felice fui accolto al porto da mia sorella Thea da Trappola e da Benjamin cuginotto ti si credeva ormai ciccia per gatti invece ti vedo vivo e vegeto confessa hai fatto apposta sparire per spassartela in quell'isoletta molto molto esclusiva squiti trappola tuttavia mi accorsi che di nascosto si asciugava una lacrima so che mi vuole bene anche se non sopporta dimostrarsi sentimentale Thea mi abbracciò forte fratellino non sai quanto mi sei mancato che bello rivederti quando sei sparito dalla nave è stato davvero un momento terribile io tirai su col naso commosso mia sorella fa sempre la dura ma sotto sotto mi vuole molto bene lo so però anche lei non vuole sembrare sentimentale Benjamin mi corse incontro e mi abbracciò forte come se temesse di perdermi io sorrisi piano piano bocconcino di grana non scappo sai si o Geronimo come mi sei mancato io lo sapevo che eri vivo tutte le sere pensavo a te prima di addormentarmi e speravo speravo tanto che tu riuscissi a tornare Benjamin si inghiozzava lui non temeva di sembrare sentimentale io lo strenzi forte troppo commosso per parlare e mi misi a piangere anch'io poi gli diedi un bacino sulla punta del muso quella sera andammo tutti a cena da nonno torcuato la cena era stata preparata dalla sua fida governante la pina signorino Geronimo ha visto che cena lasagna al taleggio pizza alla fonduta tripla sformato di gorgonzola zuppa al certosino fuso e meringata al camembert una cenetta da leccarsi i baffi eh io ero felice molto felice che bello essere di nuovo insieme alla mia famiglia la cara zia lippa nonno torcuato nipote non ci hai ancora raccontato come hai fatto a sopravvivere sull'isola deserta tu o no il nonno sì nipote carissimo raccontaci tutto squitti zia lippa facendomi una carezza sui baffi con mossa io mi schierei la gola e iniziai a raccontare dunque come prima cosa mi costruì una capanna di foglie di banano trappo la chiese curioso e che cosa mangiavi cugino eh cosa mangiavi io sospirai banane banane sempre e solo banane e molluschi al forno la zia lippa mormorò niente formaggio neanche un bocconcino oh povero nipote chissà come hai sofferto trappo la sghignazzò ma no gli ha fatto benone ha fatto una cura dimagrante gratis la dieta della banana stavo per protestare quando squillò il telefono mi passarono la telefonata strano chi poteva essere io risposi pronto? parla a Stilton Geronimo Stilton dall'altra parte una vocina mielosa trillò Geronimo sei tu Geronimo subbalzai era la voce di Rattarella dolce ratto raccolsi tutto il mio coraggio e squitti nel telefono Rattarella devo dirti una cosa lei trillò oh si Geronimo anch'io ti devo dire una cosa io ho presi una decisione improvvisa aspettami vengo subito attaccai la cornetta del telefono e mi alzai precipitosamente dissi ai miei parenti vi prego di scusarmi ma devo andare subito da Rattarella tutti i parenti erano stupefatti e tentarono di trattenermi trappola gridò mentre correvo via Geronimo dobbiamo dirti una cosa mio nonno tuonò Geronimo dobbiamo dirti una cosa te e zia Lippa gridarono in coro si Geronimo dobbiamo dirti una cosa mentre ormai ero lontano udì la voce di Benjamin che gridava zio zio Geronimo zietto dobbiamo proprio dirti una cosa una cosa molto molto importante arrivai affannato a casa di Rattarella una lussuosa villa nella zona più esclusiva di Topazia un maggiordomo mi fece entrare mentre aspettavo nel salotto elegantissimo ricco di mobili antichi e di argenterie capii che stavo rinunciando a un ottimo anzi a un eccellente partito ma io ormai avevo deciso dovevo assolutamente dirle che non l'amavo e non l'avrei mai amata appena entrò Rattarella mi corse incontro e trillò in tono melodrammatico ah Geronimo sei vivo sei qui davanti ai miei occhi oh sapessi come ho sofferto quando ho creduto che tu fossi sparito per sempre dalla mia vita oh quanto ho sofferto ah quanto ho sofferto ah quanto ho sofferto io mormorai ero piuttosto imbarazzato mi spiace comunque infatti ecco io direi che sì sono proprio definitivamente vivo lei mormorò asciugandosi una lacrima con un fazzolettino di pizzo Geronimo c'è una cosa che ti devo dire io tentai di anticiparla anche io ti devo dire una cosa volevo dirle che io sono un topo corretto che non volevo farle un torto ma che non l'amavo e non avrei mai potuto renderla felice e che ero molto molto spiacente del malinteso che si era creato e che insomma non volevo sposarla stavo riflettendo su come dirglielo nel modo più garbato senza offendere i suoi sentimenti immerso nei miei pensieri non ascoltavo rattarella che intanto mi stava dicendo qualcosa ma cosa colsi qua e là alcune parole triste lezioni tango mi riscossi dai miei pensieri e stupito chiesi scusa ma cosa c'entra il tango lei si asciugò un'altra lacrimuccia e ripetè ero così triste quando sei sparito e allora ho preso lezioni di tango tante anzi tantissime lezioni di tango la mattina il pomeriggio la sera io continuai stupito sì e allora lei proseguì ecco io parve esitare poi squittì tutto d'un fiato insomma ho sposato il maestro di tango io ero così allibito che dovetti sedermi cosa 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 hai sposato il maestro di tango tangherito fascinoso detto il caliente lei fece cenno di sì con la testa perdonami perdonami geronimo mi sentivo tanto sola solo in quel momento mi accorsi che all'annulare della zampa sinistra portava un anello nuziale rattarella si era sposata mi dispiace mi dispiace tanto geronimo ma tutti dicevano che eri scomparso per sempre e io ero tanto triste piangevo dalla mattina alla sera e il tango tu capisci il tango ricordi quella canzone canticchio se non puoi aver vicino il roditore che ami ama il roditore che hai vicino io non capivo ma continuavo a ripetere capisco capisco eh già il tango in quel momento notai una foto in una cornice d'argento erano rattarella e tangherito il giorno delle nozze lei parve riscuotersi e mi chiese a proposito che cosa dovevi dirmi? io scossi la testa e sorrisi nulla ma sappi che ti auguro di cuore tanta tanta felicità sì spero che tu sia felice rattarella l'amore è la cosa più importante l'amore è un fiore prezioso l'amore è come il formaggio pensavo che la vita a volte ha davvero uno strano modo di aggiustare le cose mentre uscivo dalla lussuosa villa dei dolce ratto telefonai a benjamin e gli raccomandai tienimi in caldo una porzione di lasagne sto arrivando per fortuna quella tremenda avventura era finita ero contento che rattarella avesse finalmente trovato la sua anima gemella quanto a me invece con l'amore avevo chiuso non volevo più complicazioni pioveva così quando fu in strada alzai una zampa per fermare un taxi taxi gridai ma improvvisamente udì una voce femminile chiamare taxi come era dolce quella voce ammaliato mi voltai e vedi una topolina affascinante la fissai negli occhioni viola e improvvisamente 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 capì che ero innamorato perso con i baffi che frullavano per l'emozione e mormorai permette che mi presenti signorina il mio nome è stilton geronimo stilton lei mi porse una zampetta morbida morbida io mi inchinai e mi esibì in un perfetto bacia zampa il corso sulla nave era servito a qualcosa dopo tutto poi squittì prego e li aprì la portiera del taxi lei mi sorrise oh quant'era dolce quel sorriso e mormorò oh signor stilton com'è galante io ero completamente nel pallone il cuore mi batteva all'impazzata e la testa mi rimbombava sì mi sentivo completamente suonato proprio come se delle campane mi risuonassero nelle orecchie ricordai le parole di zialippa e improvvisamente capì quando arriva il vero amore lo riconosci subito perché senti suonare le campane ah l'amore cari amici roditori a risentirci al prossimo libro un altro libro coi baffi parola di stilton geronimo stilton grazie a tutti grazie a tutti